Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione in merito alla richiesta della famiglia di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci, che l'11 agosto 2017 è stato massacrato di botte durante una serata in discoteca a Ioredemar, morendo in ospedale per i traumi riportati affinché il processo in Spagna riguardante il figlio giunga a conclusione prima della scarcerazione dell'imputato. L'atto, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale, che ha visto come primo firmatario Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, impegna infatti il Presidente e la Giunta regionale a sollecitare le autorità spagnole affinché il processo, che vede quale principale imputato il cittadino ceceno, si concluda prima della scadenza dei termini di carcerazione preventiva dello stesso, cioè entro agosto 2021. Oggi il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità su proposta del collega Torselli, con firma mia e del collega Galli a sostegno di questa mozione, la richiesta che impegna il Presidente Gianni e la Giunta della Regione Toscana a sostenere la legittima richiesta della famiglia e del Comune di Scandicci riguardo a un impegno nei confronti della Spagna affinché si arrivi prima di agosto prossimo, prima di agosto 2021, a processo nei confronti del ceceno che è attualmente in carcere per l'omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto l'11 di agosto del 2017 in discoteca all'Ore de Mar, poi Niccolò morirà purtroppo il giorno dopo, il 12 di agosto del 2017. E quindi io, conoscendo anche personalmente la famiglia, essendo anche di Scandicci, ho vissuto appieno tutta questa tragedia e chiaramente c'è un rapporto di vicinanza personale anche alla famiglia, ma questo non conta, ciò che conta sono le istituzioni, quindi io davvero devo ringraziare il Sindaco del Comune di Scandicci, tutta l'amministrazione comunale e tutte le istituzioni che nel tempo sono state vicine alla famiglia di Niccolò, al padre Luigi, alla madre Cinzia, alla sorella Sara, agli amici più stretti e ai familiari più stretti, indipendentemente dal colore politico. Infatti anche l'approvazione all'unanimità di questa mattina in aula significa questo, perché si è vicini alla famiglia cercando di dare concretezza ad una legittima richiesta, portare a processo l'esecutore materiale dell'omicidio, perché di questo si tratta di Niccolò Ciatti, e possibilmente anche impegnarsi per portare a processo anche i due coautori, perché poi erano tre le persone che hanno perpetrato questo gesto dirittuoso, l'omicidio appunto di Niccolò. Non è stata, e non conterebbe niente, ma non è stata una rissa, futili motivi, non c'è stato un diverbio prima che potesse portare a quello che è accaduto. Niccolò è stato individuato e volutamente e barbaramente ucciso dal ceceno e dai ceceni, con la collaborazione appunto dei due che erano insieme all'esecutore materiale. Quindi la richiesta, per farla breve, è quella che tutti si impegnino affinché si arrivi prima di agosto ad una definizione che consenta di dare giustizia a Niccolò. La famiglia per prima è consapevole che questo non riporterà in vita Niccolò, ma è di basilare e fondamentale importanza la giustizia, consegnare alle patrie galere una persona e quelle persone che hanno fatto questo gesto delittuoso. Devo dire che il ministro Bonafede, il ministro della giustizia, ha risposto alla lettera del 5 di gennaio del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, impegnandosi chiaramente con il suo omologo spagnolo affinché la giustizia spagnola faccia il proprio corso nei tempi dovuti. E quello di stamani mattina è un gesto che ha una sua importanza e personalmente lo sento davvero molto forte, quindi ringrazio i colleghi che hanno reso possibile tutto questo. Il rischio enorme che ad agosto del 2021 l'omicida di Niccolò Ciatti possa essere rimesso in libertà ha spinto Fratelli d'Italia a presentare un atto sul quale abbiamo trovato la convergenza di tutto il Consiglio regionale. Ringrazio i colleghi Merlotti, Vannucci e Galli che l'hanno anche voluta sottoscrivere. È una mozione che altro non fa che impegnare la Regione Toscana al fianco degli altri enti, penso al Comune di Scandicci, penso al Governo nazionale, perché i ministri Bonafede e Di Maio si sono sempre mossi in questa direzione e quindi pur non facendo parte della mia forza politica riconosco loro un impegno in questa direzione, è assolutamente necessario che l'Italia, l'Italia come Stato pretenda che il processo all'assassino di Niccolò Ciatti venga celebrato entro l'agosto di quest'anno, perché sarebbe intollerabile e inaccettabile che questo signore che ha deliberatamente ammazzato Niccolò fosse rimesso in libertà, perché se questo viene rimesso in libertà da un carcere francese, stiamo parlando di un cittadino ceceno, questo il giorno dopo è un latitante e alla famiglia Ciatti noi facciamo anche il secondo sorto, dopo quello di aver visto la scomparsa del loro figlio, vedere anche un processo senza l'imputato seduto al tavolo degli imputati e questo sarebbe intollerabile per l'Italia tutta. Quindi la Spagna ha voluto legittimamente tenersi il processo in terra spagnola, adesso lo celebri e lo celebri nei tempi adeguati. Beh, credo che sia un atto doveroso, perché dobbiamo stare vicino moralmente, ma noi come Assemblea regionale anche politicamente, affinché venga fatta giustizia. Giustamente il consigliere consigliere Torzelli ha specificato tutte le procedure giuridiche che stanno succedendo in Spagna, noi abbiamo secondo me il dovere, ripeto morale, di fare in modo che il nostro governo insista affinché venga fatta giustizia, ma soprattutto che non avvenga il 12, mi sembra che sia il 12 di agosto prossimo, la scarcerazione di questo individuo, perché il rischio potrebbe essere quello che lui possa anche poi dopo trovare sistemazione altrove e non essere più dopo perseguibile. Per cui credo che assolutamente debba essere fatto un processo, debba essere fatto nei termini e nei tempi più vicini. Dopodiché, ecco, io sono personalmente vicino alla famiglia di Niccolò, tra le altre cose è un nome che ci lega, è un nome che manda un abbraccio forte a tutta la famiglia. Sì, ho firmato con grande convinzione questa mozione per chiedere giustizia nei confronti di Niccolò Ciatti, dobbiamo pretendere che questo avvenga, deve avvenire tempestivamente, deve avvenire mediante una relazione forte con le autorità anche spagnole e questo deve avvenire nelle prossime settimane, lo chiediamo con forza, è corretto e importante che tutte le forze politiche si stingano intorno alla famiglia per chiedere giustizia per quello che è stato un attentato violento nei confronti di un nostro ragazzo toscano. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una mozione inizialmente presentata da Stefano Scaramelli e Maurizio Sguanci di Italia Viva sull'esclusione della realizzazione del corridoio tirrenico dall'elenco delle opere da sbloccare tramite le figure commissariali previste dal Decreto Legge Semplificazioni. La mozione approvata è stata emendata, primo firmatario degli emendamenti, Francesco Gazzetti del PD. L'atto emendato impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti di tutti i soggetti interessati affinché venga perfezionato quanto prima il necessario passaggio di competenze da SAT ad ANAS per la gestione dell'arteria e a proseguire l'azione nei confronti del Governo nazionale affinché il corridoio sia inserito tra le opere commissariate, così come previsto dal Decreto Legge Semplificazioni. Il fatto che non sia stato messo nel Decreto Semplificazioni, quindi non sia stato nominato un commissario che bypassa determinati passaggi burocratici che stanno rallentando indefinitivamente questa dorsale tirrenica che è fondamentale. Nell'interrogazione noi si chiedeva che cosa avrebbe voluto o cosa avrebbe potuto fare la Regione, in realtà la risposta è stata un escursus temporale sui vari problemi. Noi non possiamo accontentarci di una lezioncina perché purtroppo, essendo io di Grosseto, ho visto morirci tanti miei amici, persone che conosco e quindi per me è un qualche cosa che mi tocca il cuore, per me e i miei concittadini, per cui deve diventare assolutamente una cosa prioritaria per la Regione perché per noi è esiziale sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista infrastrutturale e economico perché inevitabilmente per noi è fondamentale questa strada. È importante che il Consiglio regionale della Toscana si sia pronunciata, abbiamo presentato una mozione, è stata condivisa, è importante che la Toscana si pronunci per fare in modo che quanto prima arrivi il Commissario, deve essere un'opera strategica fondamentale per lo sviluppo della Toscana in relazione anche ad altre Regioni. Ho avuto la tempestività di presentare subito una mozione a mia firma, oggi il Consiglio regionale l'ha approvata, questo è un atto importante politico con il quale il Consiglio regionale della Toscana chiede al nostro Governatore di attivarsi nei confronti del Governo per fare in modo che venga commissariata all'opera, l'intervento possa realizzarsi e possa rientrare fra le infrastrutture principali del decreto semplificazione che sempre Tel Aviv a livello nazionale ha promosso e che oggi vede questa opera altrimenti ferma al palo così come è stata negli ultimi anni. Deve avvenire quello che è avvenuto per la Due Mari, due grandi opere importanti per la Toscana. La nostra posizione sul corridoio terrenico è una posizione risaputa da decenni nel senso il centro-destra è favorevole al corridoio terrenico che è un buco nero che c'è nella Toscana che viene scontato ogni anno in chance, in opportunità, in competitività dalle nostre aziende, dai nostri lavoratori, da chi appunto si muove in Toscana. Ci fa piacere che anche il centro-sinistra finalmente prenda una posizione ufficiale su questo tema perché uno degli ostacoli insormontabili rispetto al corridoio terrenico di questi anni è stata appunto la contrarietà di tanti pezzi della sinistra e del centro-sinistra toscano, compreso tanti sindaci, compreso tanti livelli istituzionali. Vorremmo capire quello che ho detto oggi in Consiglio da parte della regione toscana anche che gioco vuol giocare rispetto al recovery plan perché è evidente che il corridoio terrenico proprio anche per il suo carattere interregionale, per il suo carattere direi nazionale, è uno dei punti su cui scommettere all'interno del recovery plan. Però sembra che la regione toscana non voglia giocare questa partita che aspetti insomma quello che succede a Roma che è abbastanza complicato mi sembra. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità alla legge che prevede misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo in seguito all'emergenza Covid-19. Un milione di euro i fondi destinati ai lavoratori dello spettacolo attraverso il provvedimento d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza. I lavoratori autonomi dello spettacolo sono stati infatti fortemente penalizzati dalla perdurante interruzione delle attività di spettacolo dovute alla pandemia. Sì, devo dire che la mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. E nell'ascoltarli sono emersi alcune criticità che la legge nel suo impianto originario non risolveva. Uno era quella dei codici Ateco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo e l'altro era questo massimale veramente basso. Poi vedremo perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività. Quindi questo ci sembrava importante. Un altro elemento di correttivo, un'altra menda che abbiamo fatto al test originario è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana. Vale a dire non soltanto il tema della riconoscibilità dei luoghi, delle tradizioni, ma anche un patrimonio di lavoro creativo che in questa regione ha avuto un riconoscimento, uno sviluppo davvero singolari. Ecco, quindi ci sembra importante, ci è sembrato importante lavorare per perfezionare uno strumento che è davvero uno strumento eccezionale, perché insomma un Consiglio regionale che ritrova una cifra come questa, che mi rendo conto alla fine potrà portare a contributi magari poco più che simbolici per le perdite che questi soggetti hanno avuto, ma comunque è un segnale di attenzione. Un Consiglio regionale che riesce a mettere insieme un milione finalizzato a questo scopo fa un'operazione che davvero pone la cultura al centro delle linee strategiche di sviluppo della regione. Ecco, quindi mi è sembrato un segnale molto importante anche per quello che poi potrà portare. L'elemento progettuale introdotto come premialità, oltre al fatto di avere un contributo così diciamo a pioggia, è un elemento che vuole riconoscere il fatto che la cultura ha, diciamo, il lavoro in ambito culturale produce un doppio livello di frutti, non solo è lavoro e quindi crea benessere, fa sostentare i lavoratori, ma crea anche un prodotto che fa crescere tutta la popolazione toscana. Quindi il prodotto del lavoro culturale è un prodotto che ha una ricaduta positiva doppia, perché ci fa bene anche poter vedere e frequentare quello che gli artisti e che i lavoratori dello spettacolo producono con i loro progetti. Quindi ecco, questo è il senso della premialità insieme all'elemento di riconoscimento del danno nella logica più pura, più semplice dei ristori che danno un tanto a ciascuno. Sì, una misura straordinaria che consente di aiutare molte persone che operano in maniera non professionista nel settore della cultura, dello spettacolo, ma che fanno di questa integrazione, di questa loro attività, un'integrazione al reddito delle loro famiglie, una misura straordinaria che ha visto utilizzare delle risorse risparmiate in Consiglio regionale e questo consentirà a tante persone di avere un beneficio economico che può andare intorno ai 2.000 o 3.000 euro e allo stesso tempo è una misura straordinaria che deve essere fatta in maniera tempestiva, chiediamo velocità nell'erogazione delle risorse e del bando e soprattutto la Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale perché non vengono dati risorse a pioggia ma verranno chiesti in cambio delle opere che consentiranno nell'ingegno di fare tesoro di questa che è stata un'esperienza dura, quella del Covid, nella nostra regione e che ha visto un settore come quello della cultura e dello spettacolo essere danneggiato a più di altri. Chiederemo appunto che nel frattempo anche nei musei, nei cinema e nei teatri si possa poi riaprire e si possa rifare attività magari rispettando le stesse regole che vengono rispettate nelle televisioni o nelle attività di carattere sportivo agonistico. Abbiamo in Ufficio di Presidenza elaborato un testo di contributo ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Innesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti di ristoro nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. Un milione di euro ci saranno finalmente di contributi anche a questa categoria. Un segnale importante. Abbiamo anche firmato degli emendamenti presentati dalla Quinta Commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Si sta facendo un buon lavoro di squadra e dal mio punto di vista occorre veramente lavorare tutti insieme per aiutare le persone. Questo è un po' quello che ci chiede il mondo esterno. Conserviamo i nostri ruoli, le nostre differenti posizioni, però in questo momento almeno nell'aiutare chi è colpito dall'emergenza dobbiamo essere uniti. Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo. Per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere un milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città, ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello e per questo siamo molto felici che Regione Toscana impegni un milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico spettacolare di un milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole appunto per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa Regione. Uno dei problemi più grandi che questo Governo è riuscito ad affrontare è stato quello di riuscire a dare il ristoro più esteso possibile a tutte le categorie e delle volte non è stato facile, complice le rigidità dei codici Ateco, ma molte altre questioni. È importante quindi che anche le Regioni si facciano carico di questi ristori laddove possono e nella misura in cui possono, consapevoli che la coperta comunque sia non riesce a coprire tutto. Quindi benvengano i ristori per i maestri di sci ma anche per le categorie del mondo spettacolo con una puntualizzazione. Molto spesso ci si concentra sulle realtà artistiche della comune di Firenze che è quello per certi versi più ricco, ma ci sono moltissime piccole e piccolissime realtà che costituiscono la cultura, l'attività e anche il sociale di tantissime altre città della costa ad esempio delle aree interne. È importante che questi soldi arrivino anche a loro, anzi direi che è fondamentale. Credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come e quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini, delle imprese, delle famiglie toscane, si riesce anche a dare una risposta. Naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha, ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme e il mio ringraziamento va all'ufficio di presidenza, al presidente Mazzeo, ai vicepresidenti Casucci, al vicepresidente Scaramea, tutto l'ufficio di presidenza nella sua completezza perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte e tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'ufficio di presidenza. Da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci. Quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della Giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla Giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione, soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo. Un'altra categoria duramente colpita dalla crisi economica dovuta alla pandemia Covid-19 sono i maestri di sci. Grazie ad un atto di iniziativa dell'ufficio di presidenza che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana, per loro sono in arrivo 200.000 euro. Il sostegno economico di 800 euro, una tantum per il 2020, andrà ad ogni maestro di sci che lavori in modo continuativo nella regione e che sia iscritto all'albo professionale tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci. Esprimo la mia soddisfazione per l'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge di contributi ai maestri di sci. Un'annata paradossale, tanta neve purtroppo però non si può sciare neppure in Toscana e quindi siamo molto soddisfatti di aver fatto squadra in ufficio di presidenza per la presentazione di questa proposta di legge che va incontro a questa categoria così colpita dalla emergenza. È un segnale importante di vicinanza a una di quelle categorie di fatto finora praticamente dimenticate. Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana una mozione per far riaprire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai circoli sociali e ricreativi e individuare misure a sostegno della loro attività. La mozione prevede che la Commissione Sanità e Politiche Sociali ascolti i soggetti del terzo settore e valuti con la Giunta eventuali iniziative in loro favore e che si effettui una ricognizione delle difficoltà della rete dei circoli ricreativi e sociali della Regione per valutare l'utilizzo di risorse del Consiglio disponibili per interventi al loro sostegno. Infine impegna la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché venga consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli associati da parte dei circoli ricreativi e sociali in analogia con quanto previsto per i locali pubblici quando si è in zona gialla e a valutare iniziative per consentire la sopravvivenza della rete dei circoli ricreativi e culturali nel territorio regionale, soprattutto nei territori marginali e meno popolati. Insieme al collega Sostegni abbiamo approvato una mozione nella quale chiediamo a tutti gli attori, soggetti istituzionali, dal Presidente al Consiglio alla Giunta, agli Assessori anche in conferenza Stato-Regioni di attivarsi perché il Governo metta una pezza direi io e consenta ai circoli ricreativi di dare ai propri soci la somministrazione di bevande e di alimenti. Questo per due motivi. Primo perché chiaramente anche attraverso questo momento di ulteriore socialità si dà sostenibilità a queste strutture che negli anni in questa Toscana hanno davvero scritto un pezzo di storia. Noi sappiamo che circoli, faccio ad esempio, siamo stati sollecitati da Arce e da Acli, sono un momento in cui le persone spesso sole trovano un momento di scambiare due parole, un momento di attenzione, si sentono comunità. Questo volevamo far passare. Naturalmente privare i circoli di somministrare cibo e bevande rende meno sostenibile anche l'accendere la luce, il sostenere quelle spese che comunque ci sono. Ci ha sorpreso un po' l'atteggiamento della minoranza in Consiglio regionale che ritiene questi non un presidio del territorio, noi riteniamo che siano. L'idea è stata quella di allora apriamo anche ristoranti e bar la sera. Certo, noi siamo perché se le condizioni pandemiche lo consentano riparta tutta l'attività economica del nostro territorio. A partire da bar e da ristoranti è un limite anche per tutti noi, per tutti i nostri territori che vedono chiuse le saracinesche a una certa struttura. Non è una concorrenza sleale quella dei circoli, è solamente, non volevamo farla passare per questo, ma solamente ridare fiato a un sistema di comunità nella quale crediamo molto.